bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xputer e oggi ragazzi ancora novità per quanto riguarda rules of survival oramai ragazzi sta veramente spopolando non so se avete notato ma si sono impennate in una maniera incredibile il numero di download si sono impennati in una maniera incredibile il numero di download fatti nell'ultima settimana per questo meraviglioso gioco sparatutto pubblicato da net is games produttrice anche di altri due o tre sparatutto sempre più o meno dello stesso genere stiamo vedendo ragazzi oramai molto più frequentemente gli aggiornamenti che vengono pubblicati e che continuano ad inserire un sacco di roba interessantissima e oggi ragazzi grazie all'aiuto del team ufficiale di rules of survival italiano andate a cercarlo nella pagina facebook rules of survival ita official abbiamo delle immagini esclusive sui nuovi palazzi che potremo trovare nella nuova mappa che dovrebbe essere introdotta il 31 gennaio e non solo ragazzi e non solo abbiamo anche un filmato speciale che ci farà vedere tutte le nuove armi in azione e ragazzi tanta tanta roba due secondi prima di cominciare ragazzi mi raccomando non vi costa niente lasciate un bel like se vi sta piacendo questo video iscrivetevi al canale se volete giocare con me in live dalle 14 tutti i giorni o comunque se volete rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda rules of survival quindi ragazzi non perdiamoci non perdiamoci in chiacchiere trochete eccola qua la prima immagine ragazzi guardate questi nuovi palazzi tipo due condomini da quattro piani con davanti altri due mini caseggiati da due piani solo nuovi edifici molto molto interessanti anche questo mi piace l'idea che siano uno vicino all'altro tanta roba mi vengono già in mente delle belle giocatine andiamo avanti e qua invece abbiamo una specie di piccolo bar ragazzi come vedete tutto avetrate con tanto di ombrellone fuori anche questo fa parte ovviamente di ciò che ci dovremmo aspettare con il nuovo update speriamo di trovarlo il prima possibile ecco qua invece ancora due condomini senza però le case davanti ragazzi questi sono a cinque piani addirittura che figata cinque piani più piccolini è effettivamente una cosa che non si è ancora vista in rossa abbiamo il condominio quello gigante a tre piani invece due vicini piccolini mi piace mi piace mi piace qua vediamo anche un sembra una torretta rosa comunque raggiungibile con una scala piantata lì in mezzo al niente tipo avamposto di vedetta qualcosa del genere sicuramente potrà avere la sua utilità nella modalità a squadre ma anche nella singola perché no wow questo siamo direttamente nel far west ragazzi casa di legno molto stile fortnite molto stile fortnite questa caseggiata qua di legno non male vediamo intorno ci sono delle altre case tutte di legno non c'è l'erba ma anche questa assolutamente molto divertente da vedere una bella rinfrescata che non guasta mai e beh e beh ragazzi l'abbiamo già visto un paio di volte il mulinozzo c'è da piantare dentro i mulini ragazzi tanta roba con tanto di campo di papaveri annesso davanti ragazzi il mulino è una delle novità più interessanti dei nuovi edifici non sappiamo se ci si possa salire o meno secondo me con l'atterraggio qualcosa si potrà provare voglio provare ad andare sulle pale voglio provarci la barca nuova ragazzi questa è una cosa nuova abbiamo visto nel video di due giorni fa quello dove mi mostravo l'anteprima dell'overcraft che c'è un punto non capisco bene perché ma comunque dalla barca si può raggiungere anche questa nuova barca che è arenata in una baia dove ci sono anche tra l'altro un paio di overcraft che rimarrebbero diciamo di qua alle spalle del personaggio barca che si può tranquillamente visitare come vedete c'è una scaletta lì nel buco centrale e chissà che cosa ci troveremo dentro di nuovo un'altra prospettiva della casa di legno che vi avevo già fatto vedere poco fa presa dall'altra parte infatti vedete anche la casa alla sua sinistra sembra essere nuova torretta elettrica ragazzi anche qua raggiungibile come possiamo vedere sulla destra da una scala quindi il primo piano chiamiamolo così è sicuramente visitabile e sono molto convinto che possa contenere delle armi o comunque degli oggetti interessanti peccato che non si può andare più su di così però non male neanche la torretta elettrica e continuiamo guardate che carrellata di immagini che ci propongono i ragazzi del team ufficiale italiano di rossa ragazzi applausi anche per loro che tra l'altro se volete parlarci assieme sono sempre dentro le mie live pomeridiane volete chiedergli qualche cosa loro sono molto molto disponibili nuovi capannoni anche qua li vediamo come già siamo abituati a vederlo questo è diverso e penso che questa sia l'ultima immagine una specie di edificio allungato potrebbe essere una scuola secondo me vista un po così rosa due piani bello largo con tanto di passaggi interni tanta tanta roba e qua appunto ricominciamo dal primo che avevamo già visto prima fino qua direi che non sono male queste fotografie dei nuovi edifici che troveremo nella mappa di ross ma noi vogliamo vedere le armi ma noi vogliamo vedere le armi che sparano e allora ragazzi vi lascio vedere questa clip gentilmente regalatami dai due ragazzi che vi ho citato poco fa che fanno vedere tutte le nuove armi in azione guardala qua guardala qua questo è l'M110 fucile da cecchino guardalo 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 qua va a ricaricare va a cambiare il mirino molto cattivo l'M110 ragazzi spara da una distanza incredibile incredibile guardate che roba parlo a bassa voce perché voglio farvi sentire i rumori degli spari questo era il cecchinozzo da il cecchino da lontano il QBU88 ragazzi un altro fucile di precisione sì sì sempre per lo sniper guardate guardate prom 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 tre colpi è andato giù tre colpi è andato giù ragazzi troppo cattivo lo sniper troppo cattivo il QBU88 c'era anche in battlefield l'avevamo già visto molto molto interessante tra le nuove armi lo shotgun il WRO ragazzi minchia questo è lo shotgun dello zio Sam guardalo lì molto cattivo con caricamento laterale letale letale non ho visto da quanto è il caricatore credo da due se non sbaglio o addirittura da uno potrebbe essere la submachine gun la P90 ragazzi un'arma velocissima velocissima guardate che roba guardate che roba un'arma da distanza ravvicinata molto molto cattiva lo shotgun il Saiga 12 ragazzi qua purtroppo non gli hanno messo il caricatore da 12 colpi ma da 6 se non ho visto male spara ripetizioni colpi di fucile a pompa tanta tanta roba un'altra arma semiautomatica la N94 e la CR ragazzi guardate che roba altre due nuove armi veramente cattivissime veramente cattivissime anche queste veramente tante le armi che verranno inserite in questo nuovo aggiornamento ragazzi mamma mia mamma sta diventando un gioco di guerra assolutamente paragonabile ai suoi colleghi per console il vector ragazzi l mp5 altri due submachine gun sono le mitragliatrici leggeri guardate che roba guardate che il vector è bellissimo da vedere e anche l'altro non è assolutamente male cattivo l mp5 cattivissimo è proprio un'arma che si usava tantissimo anche in battlefield e il fucilozzo nuovo ragazzi la hug che si può trovare solo a me a hug che si può trovare solamente nell'airdrop ce l'hanno anche come si è suggerito e per finire lui lui il lanciarazzi ragazzi non vedo l'ora di giocare con lanciarazzi tanta roba come vedete ragazzi due il numero di uno scusate il numero di missili contemporaneamente che si può giocare come andate a vedere lui va a provare a sparare non si vede bene ma perché ve lo lasciamo un pochettino soffriggere come la cipollina nell'olio ve lo lasciamo soffriggere lo andremo a vedere poi assieme con calma ben ragazzi abbiamo veramente visto un sacco di roba nuova che ben presto anche noi potremmo usare in questo rules of survival io ragazzi vi ringrazio davvero tantissimo per avere guardato questa live mira con questo video mi raccomando un bel pollice all'insù che non vi costa niente iscrivetevi al canale e fate un salto sulla pagina facebook rules of survival ita official noi ci vediamo presto ciao ciao